Ciao Danuzzi Buongiorno, che sei? Il compito della Teresa ieri? Il fascista? No, ieri non ho fatto storiare Perchè sentiamo per quale motivo? Vedi che io la vanno da bullo? Avevo la fredda Tutto un po' di ricerca Praticamente a sera successe una disgrazie e mostri la mia nonna La mia nonna, perchè prima ero fuori nonna la vista la piscaria Certo... Ha pagato i bici sicuro Buongiorno Pagarei me l'ha scattato i bici Dato E tale come mi ha riducito Gli ha fatto il piscicco Avevamo un po' a volo A stanno da bullo E' inutile camminare al piscicco Ora mi ne stanno gattato Ora mi ne stanno gattato E' inutile camminare al piscicco E' inutile camminare al piscicco